ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo a vedere come realizzare queste meravigliose tricettine orizzontale da applicare su un motivo rasato guardate come si presenta da di dietro crea a sua volta un bellissimo motivo e questo come si presenta da davanti è un motivo facilissimo da realizzare e di un bellissimo effetto vi permette appunto di andare a realizzare un progetto molto fine e permette andare a aggiungere questo tocco particolare grazie a queste tricettine infatti è un motivo che possiamo facilmente andare a abbinare anche ai progetti maschili ad esempio se state realizzando un maglione tutto arrasato potete andare a applicare questo motivo per andare a aggiungere un tocco in più appunto al vostro rasato e poi questo è anche un motivo che perfetto per andare a creare le maniche del maglione in quanto lo andrete a lavorare una volta che date la forma diventano tutte queste tricettine che vanno intorno è un motivo meraviglioso con la possibilità di andarlo applicare veramente su tantissimi progetti sia invernali che estivi e anche sui progetti bimbo uomo donna il nostro motivo è un multiplo di due maglie e due feri quindi noi ora per il nostro campioncino andiamo avviare 20 maglie dedicate al motivo più una male di simmetria più due maglie di vivagno quindi in totale noi ora abbiamo 23 maglie per il nostro campioncino prima cosa da fare è andare mettere la base quindi il nostro primo ferro noi lo lavoriamo a rovescio la maglia di vivagno la spostiamo e le successive maglie tutte le lavoriamo a rovescio semplice ed ecco qui abbiamo messo la nostra base partiamo quindi con il primo ferro del nostro motivo e andiamo a realizzare le nostre triccine orizzontali la nostra maglia di vivagno noi la spostiamo senza lavorare la prima maglia subito dopo la maglia di vivagno e la male di simmetria che noi avremo sempre all'inizio del ferro quindi noi la andiamo lavorare singolarmente per conto suo a diritto successive due maglie sono la nostra prima copia del nostro motivo perché è un multiplo di due maglie noi dobbiamo andare creare una maglia lunga in questo modo entriamo in spazio che si crea tra la seconda e terza maglia che ora ci sono sul ferro estraiamo in questo modo una maglia lunga la maglia lunga appena lavorata creata estratta insieme a con la male di simmetria li rispostiamo sul ferro di sinistra semplicemente in questo modo 1 e 2 una volta che le abbiamo spostati sul ferro di sinistra entriamo in asola di queste due maglie appena spostate e andiamo a ricavare un'unica maglia a diritto ora le due maglie successive le andiamo a lavorare a diritto semplice ed ecco che abbiamo visto il primo intreccio la prima treccia e così per tutto il ferro prendiamo la nostra copia di due maglie allarghiamo entriamo in spazio subito dopo in questo modo come viene illustrato estraiamo una maglia lunga la maglia lunga appena ristratta insieme alla prima maglia che c'è sul ferro di destra prima della maglia lunga vanno spostate sul ferro di sinistra subito dopo vanno lavorate insieme a queste due maglie spostate ricavando un'unica maglia successive maglie due maglie che sono per ora erano state messe in sospeso vanno lavorate a diritto normale ed ecco così che noi creiamo le nostre prima ondata diciamo così la della treccia la prima direzione quindi per tutto il ferro procediamo così allarghiamo creiamo la maglia lunga come se avessimo avvolto le due maglie del motivo poi spostiamo la maglia lunga appena creata e la maglia prima maglia che si trova sul ferro di destra li uniamo ricaviamo un'unica maglia quindi abbiamo fatto la diminuzione dopodiché lavoriamo normalmente le maglie quindi noi cosa facciamo ricopitolando prima creiamo la maglia lunga poi facciamo diminuzione e dopo andiamo lavorare le maglie e in tutto questo lavoriamo a diritto così procediamo per tutto il ferro ed ecco qui guardate subito dopo il primo ferro del motivo e si vede già bene la tricettina che si sta realizzando con inclinazione verso un lato ora dobbiamo andare a fare quella al contrario noi ci troviamo sul ferro di ritorno e il nostro ferro numero 2 del motivo la male di vivagno noi la spostiamo ci ricordiamo che la simmetria la facciamo sempre all'inizio di ferro e con il ferro di ritorno la simmetria si presenta a rovescio perciò noi la andiamo a lavorare a rovescio normale e poi facciamo la stessa identica cosa dobbiamo andare a lavorare a coppie da due maglie però sul ferro di ritorno dobbiamo fare questa cosa visto che siamo sul rovescio del lavoro dobbiamo andare a spostare filo in questo modo da tenerlo da di dietro come se dovessimo lavorare appunto il diritto entriamo sempre nello stesso modo dentro allo spazio creiamo una maglia lunga volta la maglia appena creata insieme a quella a quella di simmetria andranno diminuite però prima di diminuire noi dobbiamo far cadere il filo davanti perché stiamo sul rovescio e la diminuzione la dobbiamo andare a fare sul rovescio quindi con il filo davanti in questo modo successive maglie le andiamo a lavorare a rovescio normale quindi il meccanismo di lavoro è sempre lo stesso accorgimento è quello di tenere il filo da di dietro quando ricaviamo la maglia lunga e da davanti quando facciamo la diminuzione a rovescio vediamo un'altra insieme entriamo dentro tenendo il filo da di dietro perché dobbiamo andare a ricavare una maglia lunga lavorata da di dietro a diritto la maglia lunga appena ricavata insieme alla prima male che si trova sulla destra si spostano sul ferro di sinistra abbiamo fatto cadere il filo da davanti abbiamo fatto una diminuzione semplice a rovescio da due abbiamo ricavato una dopodiché procediamo con la lavorazione delle maglie a rovescio normale e così procediamo per tutto il nostro ferro quindi il meccanismo della lavorazione stesso identico semplicissimo ed ecco qui dopo questi due ferri abbiamo terminato il nostro motivo a trecettina una volta che sappiamo come appunto fare questi due ferri sappiamo come realizzare la trecettina a sua volta la trecettina la possiamo andare inserire nel motivo rasato nel nostro caso noi abbiamo alternanza ogni quattro ferri quindi facciamo la nostra trecettina con lavorazione di questi due ferri dopo di che facciamo quattro ferri rasato di nuovo ripetizione della trecettina quattro ferri rasato di nuovo ripetizione di strecettina ovviamente in mezzo la distanza tra una treccia e l'altra la potete andare a decidere al piacere dipenderà ovviamente quanto decorativo la vogliamo e che progetto stiamo facendo ed ecco qui guardate come si presenta il nostro campioncino dopo che abbiamo portato per alcuni centimetri la nostra lavorazione con appunto alternanza del rasato e delle trecettine che abbiamo visto in questo tutorial speriamo che questo motivo vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegarvi bene tutti i passaggi ovviamente se ci sono le domande ponetele qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo in più ci potete trovare su facebook e anche su instagram se non avete ancora attivato la campanella attivatela per appunto ricevere le notifiche riguardanti i tutorial che escono grazie a tutti e al prossimo video tutorial grazie a tutti